Martin Luther King di Caltanissetta, siamo col dirigente scolastico, la dottoressa Daniela Rizzotto. Il rugby arriva, rugby per tutti. Cosa può portare in termini di offerta didattica? Un ampliamente dell'offerta formativa sicuramente. Noi come scuola, con lo sport, andiamo a brancetto per una serie di motivi. E soprattutto per il fair play, il rispetto delle regole, il rispetto delle persone. E l'inclusione sociale che questa comporta. Noi a scuola accogliamo tutte le diversità di cui i ragazzini sono portatori. E lo sport è una di quelle attività che più aggrega e più rende il lavoro un lavoro di squadra, un lavoro di insieme. Il rugby porta un valore aggiunto, perché soprattutto con le classi di scuola primaria, dove non abbiamo la figura dello specialista nelle attività motorie, se si introducono degli specialisti nelle attività motorie, questa si arricchisce. E in un modo particolare il rugby, che è un gioco di squadra, sviluppa la capacità di stare insieme seguendo delle regole, che è quello che la scuola vuole ottenere dai ragazzi. Grazie. Grazie.